Cambiamo argomento, reddito di cittadinanza e forme di contrasto alla povertà al centro di un convegno promosso da Conf Professioni Marche che si è tenuto oggi in regione, il servizio di Guido Marino. E' appena entrata in vigore la misura varata dal precedente esecutivo che allarga il reddito di inclusione a 2 milioni e mezzo di persone povere. Ma il tema del sostegno alle famiglie continua ad essere al centro del dibattito. Il reddito di cittadinanza è ormai entrato nel vocabolario corrente della discussione politica. Come questo possa coniugarsi con altre forme di sostegno alle persone più in difficoltà nel momento in cui vengono meno le tradizionali forme di aiuto a chi perde il lavoro, è stato al centro di un convegno di Conf Professioni Marche, l'associazione che riunisce oltre 40 mila professionisti marchigiani e un milione e mezzo in Italia. In questa fase storica in particolare il reddito di cittadinanza è diventato argomento di grandissimo interesse pubblico anche in conseguenza della straordinaria crisi macroeconomica che ha investito anche il nostro paese nell'ultimo decennio. Parlare di reddito di cittadinanza vuole anche dire parlare di costi. Può far riflettere che l'Italia spende ogni anno 40 miliardi per misure di contrasto alla povertà che non riescono a raggiungere tutti i 5 milioni di poveri ancora presenti nel paese. La versione del reddito di cittadinanza attualmente allo studio del governo, ha sottolineato il vice premier Di Mai un'intervista proprio oggi, costa 15-17 miliardi di euro. Come per tutte le politiche pubbliche si tratta di fare delle scelte di politiche pubbliche appunto. Si tratta di capire se l'attualità di un ripensamento del welfare in modo universalistico è un tema all'ordine del giorno o se altrimenti pensare di tenere in vita quegli strumenti di inclusione sociale che sono però nel nostro paese piuttosto selettivi.